Siete solo due venditori, due venditori, e dovete rifilare la vostra merce a qualcuno. Per quello che ne so, potreste anche essere due imbroglioni che stanno cercando di fregare un tizio che è molto più furbo di voi. Ma mi sembrate onesti. Signor Goldblut, ci sono delle persone che vogliono ucciderla. C'è un motivo se Tony non è qui. Coraggio, parla. Uscite da qui. Sì, ce ne stiamo andando. Su, forte, brigate. Su, in fretta della luce. Ralph. Sì, capo. 20.000 dollari. Ok. Ecco a voi. Penso che basteranno. Signor Goldblut, era del suo amico Tony. Ragazzi, mi aspetto che quei freezer arrivino entro dieci giorni. Ci può contare.